Signori stasera andremo là sopra io e il collega che si avvicina qua perché se no non si vede un cazzo buonasera cioè praticamente ti ha partorito la luce a te figlio della luce della luna si si oggi andremo alla luna perché? ma per davvero nel senso non figurato del termine perché faremo un nuovo gioco da tavolo però tu ti devi muovere a fare il setup e che cazzo? e quando da un voci mio? il problema è che forse non mi ricordo quello che c'è stato a fare qua eh dai datti una mossa siamo calmi eh sì allora il tema del gioco qual è? che noi abbiamo quest'astronave andata evidentemente in avaria sì in fiamme nello spazio cosmico no? e praticamente se no che cazzo no no di nuovo sta cosa non è che perché ho detto che va in fiamme qualcosa devi necessariamente agire in questa maniera eh non funziona non funziona ok questa volta te lo puoi risparmiare oddio mica tanto eh perché già una volta mi hai impuzzito la casa con questa cosa ora siamo all'aperto alla sinfonia del dolore andatelo a vedere stronzi e vabbè la nostra astronave si è schiandata sulla luna e si sono diciamo sparpagliate le nostre risorse che sono queste noi ci muoveremo con questi due personaggi di cinque ovviamente possiamo giocare fino a cinque ognuno ha le sue abilità ma noi abbiamo scelto l'inventore e io? e il veterano veterano il veterano non è però sì no infatti è di colore quindi non posso allora scusate no stiamo a scherzare e quindi vi diremo a tempo debito sia le regole che le abilità dei nostri personaggi però andiamo subito a ruota che cosa succede adesso? che noi peschiamo tre di queste carte ossigeno per giocatore li mettiamo in questi contenitori no? che ci fungono da inventario carte di merda no non è detto no sono andate abbastanza bene ve lo faccio vedere questo è diciamo il campo di gioco e queste mattoncini triangolari hanno i container che dicevo prima sparpagliati però la probabilità è che ne hanno tre pieni e gli altri sono distrutti vuoti questi quadrati ce ne hanno quattro quindi la probabilità migliora e a cinque è ancora più elevata questo è il rover lunare per chi riesce ad arrivare la poi si muoverà più velocemente verso l'inizio però come ho detto non vedremo subito queste regole le vedremo strada facendo no? è comunque molto semplice è semplice ma ha delle belle meccaniche spero che vi divertiate con noi probabilmente no perché se qualcuno ci conosce non si diverte ma si incazza e basta comunque cominciamo subito io uso questa qui che è l'ossigeno capiente di tre cubi tre unità ma praticamente questo come funziona io adesso lo metto negli scarti che sono questi dove alla base c'è una carta che poi vedremo che cazzo farà comunque con queste tre unità di ossigeno io vado a svegliare tutto il vicinato comunque ho fatto sette quindi io ho sette punti azione non sono movimento quelli sono sette punti azione con quei punti azioni posso effettuare varie mosse che adesso saranno sullo schermo probabilmente di sicuro mi muovo quindi faccio uno due tre quattro poi con gli altri e tre punti apro questo diciamo un bordello spaziale diciamo questo venditore abusivo di droghe di ossigeno si mi apri la birra per favore certo certamente eh cazzo eh 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 guardate la vita è veramente eh no si scheggi non mi spacchi l'accendionico ma queste figure di un bordello vogliamo evitare per una volta eh ma si è scheggiato la eh adesso mi parte tutto il liquido accendionico no è meglio non rischiare è meglio non rischiare perché scusa ma tu c'hai no si rompe si sta spaccando ma tu ce l'hai ancora la non è che ti hanno circoinciso c'hai ancora la pelle nel pisello nel glame eh veramente no se tu fai a risucchio veramente no eh quella volta mi hai detto di che meglio togliere vabbè senza birra dai se no ci sta il rover lunare questi sono contrattempi che io non taglio perché tu te li devi vedere capito perché poi a posto eh cioè non dovete cagare il cazzo io non i video li edito come cazzo egregiamente egregiamente col culo egregiamente vuoi un po' volete un po' no? si allora comunque io ho fatto ho speso tutti i miei punti si tocca a me spendo una bombola di ossigeno da due cazzo quindi hai due dadi in questo caso tirerò due dadi rispettivamente il nostro eh oddio il nostro obiettivo come avrete come avrete capito è prendere i container pieni però solo alla fine sai se li hai presi pieni o no ed è quello il bello che tu fino alla fine non sai se hai vinto quindi la cosa migliore è prenderne quante più puoi in maniera proprio giudaica talmudica e vabbè vai io ci tengo anche a dire che se qua uno muore moriamo entrambi quindi se uno finisce l'ossigeno moriamo entrambi quindi dobbiamo stare molto attenti assolutamente però io avevo fatto prima 1 2 3 4 5 6 si mi ci potevo muovere sopra se lo facevo prima vabbè muori porco di esse zandare di me cazzo allora 5 io faccio aspetta 1 2 3 4 perchè questa azione di prendere costa 3 punti azione si quindi adesso ne metto una vuota qua e con l'altra perchè ne ho 5 metto una scorciatoia adesso vedrete cosa fa le scorciatoie di solito costano 2 punti però l'abilità del mio personaggio è che a me costa 1 cazzo cazzo quindi si dà da fare per scavare i tunnel come una una un buon come un'etnia come un buon inventore no come una razza specifica di quale galassia si dicono sia una religione ma in realtà è una razza allora io ho giocato la bombola da 3 si adesso vedi che cazzo che fa perchè tu stai con un po' di ossigeno stai qua mi stai qua allora faccio così 1 2 perchè li salta bravo per quello serve la scorciatoia 1 2 3 attenzione 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 gatero la supply gatero si cioè proprio tradotto inglesizzato italianico proprio gather supplies a me grazie all'abilità del veterano questo è il mio cane che mi rovina puntualmente i video eh vabbè è una presenza fissa anche in porco dio fissa diciamo che l'ottenere la risorsa a me costa un punto in meno invece che 3 esatto lui c'ha questa abilità e quindi questo vado a flippare eh no non la devi girare la devi prendere ma devo girare è diversa e quella gli occupa spazio nei contenitori che ne abbiamo 5 diciamo unità di inventario a testa quindi però te la devi gestire tra l'ossigeno e le risorse 4 5 io può essere pure che stai a barare non lo so no 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 perchè si sta a posto andiamo avanti ok allora io mi gioco aspetta cazzo però io concedetemela quando avevo finito il turno qua quando finisci il turno su questa casella puoi pescare l'ossigeno io non l'avevo fatto e ne avrei prese probabilmente due scusate eh adesso iniziamo subito a barare però no non è barare l'avrei fatto è gestibile qua se sbagliate qualcosa queste due quindi buono abbastanza non male quindi facciamo eh allora queste qua da 3 la smetto di prenderle perchè è merda c'è uno anche io quindi è proprio merda uno ci può stare ci può stare un 3 a testa ci può stare eh 3 4 e mo ti devi ferma no vabbè vado a 5 a sto punto ok adesso è stata una giocata un po' del cazzo però vabbè forse anche la mia il problema di queste scorciatoie è che se tu le metti nelle caselle vuote va anche bene ma se le metti sopra 4 le risorse poi non le puoi prendere allora io faccio così uno e piazzo un genera un... allora io dico una cosa un generatore bravo esatto sai perchè anzi scusate davanti a me mettilo davanti a me no 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 perchè sennò dopo rimango senza carta ossigeno lo genero muo e mi ci muovo ah bravo si no sai perchè questa è un... la problematica di questo gioco e se lo dico mi cancela nel video che richiama una cosa che è successa a Minneapolis nel 2021 21 21 che noi cioè praticamente a gente non riesco a respirare in Houston abbiamo un problema ma mi piace il rischio di utilizzare supply contraffatte si le risorse che ci poggiano un ginocchio no vabbè basta basta giochiamo noi non stiamo sulla terra sul pianeta terra noi non abbiamo problemi terreni 4 allora quel tiro di merda io non posso andare la perché ci stai tu quindi non posso prendere l'ossigeno quindi vedi che cazzo devi fare magari rifocillati e poi me la dai un po' di ossigeno vediamo come mi sono rinfrocito rifocillato allora qua 4 come me le gioco il riassunto dice no perché comunque quelle da 4 sono buone a prenderle quindi io farei un movimento 3 e me lo prendo al culo questa diventa vuota e il 4 ci metto la scorciatoia rimango vicino all'ossigeno comunque bene o male tu dovresti piazzare sti cazzo di generatori e le scorciatoie perché le vaghi di meno e io devo prendere le supply comunque che supposto che sto a fa' però c'hai ragione c'hai ragione porco dio non è tutto perduto non è tutto perduto non è tutto perduto non è ancora però diciamo che mi sta incazzando e quindi i nervi se ne stanno 6 ma è barato no no non mi permetterei male si dicevo che hai ragione si dovresti prendere tu le risorse che paghi di meno 1 elargisci di meno 2 3 4 e poi basta eh mo che cazzo fai mo che cazzo fai mo che cazzo fai 6 5 e 6 cazzo ma ti stai allontanando un sacco dall'ossigeno dici no 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 nel tetto allora facciamo così io mi gioco questa che è la mia ultima metto i miei 3 dati magici buono 7 praticamente faccio torni indietro e poi vai avanti ovviamente no probabilmente faccio 1 2 3 4 eh no cazzo tu hai detto si non ce l'ho il porco dio la dislessia volevo prendere quello ma non posso perchè se no non poi non mi posso curare qua metto qui con l'ultimo movimento da qua e mo tu a questo facci tu però ci devi andare si immediata subito dove cazzo sta nasi eh devi pescare si questo è allora questo è l'elemento push your luck cioè spingi la tua fortuna e tu queste le carte le puoi prendere quante ne vuoi di ossigeno però una volta che vengono non solo si esauriscono ma quando poi le vai a rimischiare viene quella carta rossa che abbiamo visto la tempesta magnetica quello ti sfascia il generatore di ossigeno la mia ultima carta ossigeno tirando due ali non male non male uno due tre allora si va bene ti consiglio di andare avanti non indietro ok perchè te lo do io si uno due e prendo la risorsa esatto quindi lo prendi tu il rover prende questo ti fa eh oddio forse potrò prendere un'altra altre due supply magari dopo me ne vado no dovresti un'altra supply e poi me ne vado io me le lascerei per l'ossigeno due però no almeno uno si ok no scusate no allora io uso questo da due poi dato che mi stai adiacente te lo posso dare subito praticamente per dare il contenitore spendi un punto e te ne ti do proprio quella da tre grazie molto gentile poi con gli altri tre punti metto che cazzo vuoi? cane cane? si ok metto uno due e tre ok quindi si a questo turno immaggia la madonna ci è stato ci è stato ci è stato un attimo un un armageddon se qua spioriamo oltre il necessario il tavolo casca mezzo mondo si perché noi ci abbiamo sempre le cose proprio tarocche che cazzo era successo? che toccava a te eh sì eccolo qua non ritrovavo la carta e io come ti stavo dicendo uno di noi due a sto turno deve prendere ossigeno anche per l'altro ci penso io Cristo allora e il rover il problema del rover fai quello che devi fare ma che significa del rover? no perché ti fa tornare più velocemente là però parecchia azione non ne puoi fare tipo non puoi prendere le risorse allora Remo prendo l'ossigeno non puoi mettere le scorciatoie non puoi creare i generatori di ossigeno guarda che faccio io prendo l'ossigeno ne prendo uno solo e no prendili io ti devo prendili tutte e due si eh io vorrei prendere l'ultima supply e dopo me ne vado eh allora prendili tutte e due l'ossigeno ascoltami perché adesso che si mischiano diventa più pericoloso pescarle scusa ho fatto uno due e allora gli ultimi due punti metto un giallo e lo metto qua ok qua eh sì anche anche alla topo no vabbè va bene così devo prendere un po' allora io mo c'è un problema perché io mo mo no mo ho usato l'ultima tanica quindi ah cazzo o me la dai tu rimani là e me la dai quattro allora prendo questo con tre e poi salto tutti questi qua e rimango qua ok quindi mo tu nel tuo turno ti conviene tocca a te eh usi quello poi mi dai una tanica eh è un po' streminzito uno tanto due e usali usali il più possibile torna indietro e tre però è rover ah ok e ripesca in altre due ok mischia queste e io intanto nella pila degli scarti aggiungo un altro di questa che poi quando verrà mischiato di nuovo ce ne saranno due poi tre poi quattro poi ce lo prendiamo al culo senza la vasella con la sabbia porco dio no aspetta che cazzo stai no no hai sbagliato lo devo pescare lo devo pescare ah la dovevi pescare adesso eh si eh si mo mo e l'hai smontato ok questo l'ho rimischiato si si l'hai mischiato adesso si ti giuro porco dio vabbè intanto mo sarà vuoto no aspetta se l'hai smontato non puoi più ripescare ah mo questo qua si rompe mo io nel turno che viene devo sperare che mi esce scusa questo ok sta apposto devo sperare che mi esce un 6 ecco come fai con due dati ah si sono tre è giusto è tre allora abbiamo perso perché perché io se mu creo un generatore di ossigeno non ci posso andare sopra quindi o mi permetti di rilanciare il dado giusto per far vedere alla gente come finisce il gioco è 4 che cosa no no abbiamo abbiamo barato abbiamo barato e abbiamo perso però è giusto per farvi vedere come si conclude il gioco è un gioco bastardo no perché ci sta la componente strategica ma è anche fortuna quindi vabbè avrei creato questo ci sarei andato sopra e mo mi sarei preso due di questi e avrei comunque perso perché a me doveva uscire come dicevo 6 o anche 5 per dartele con un'azione 1 a te facciamo finta che è 5 tanto comunque ci va ah il risultato del dado si ma tanto comunque abbiamo perso e abbiamo barato è per far vedere un po' il gioco che purtroppo allora ci siamo presi al culo cioè adesso se volete essere puristi andate bene da sto video perché sapete che abbiamo perso potete già chiudere sì porco dico vabbè questa è la componente dei dadi del cazzo sì perché questi dadi vanno da 1 a 3 1 non ce l'hanno 4 il rifocitlo queste ne puoi prendere quando ne vuoi perché le tempeste sono uscite dentro gira e se ne prendo solo 1 no no prendite quando ne vuoi perché a sto punto prendi vabbè mi ho fatto 6 però aspetta perché tu stai là aspetta tu non puoi stare dove occupo io è vero è vero quindi facciamo facciamo quindi vado tutto indietro vado tutto indietro no 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 aspetta aspetta no 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 non c'è bisogno rimischiarle praticamente tu avevi 6 vai 1 2 2 3 4 5 6 vabbè dai che gioco di merda però e se no devo fare così 1 eh? ah sì ne crei un altro là sì quanto costa? è come se avessimo barato una sola volta quindi 1 per i nostri canoni per i nostri canoni e comunque è il minimo sindacale 1 4 5 e vabbè mi pesca io intanto mi uso questa 5 e 6 però vedi a che serve il rover beh più o meno sì allora 4 abbiamo fatto la partita di prova prima abbiamo giocato una partita veramente ottima che avevamo da manuale avevamo pure il rover senza barare e abbiamo perso per un punto quindi il gioco ti offre delle opportunità però allora io mi ho fatto 4 faccio questo non lo posso prendere perché se no quando cazzo torno indietro 1 2 ma si metto questo qua che cazzo ne so senza motivo no aspetta no perché poi te li metto davanti qua questo è un numero limitato allora lo devo pescare e basta vedi vedi la testa la testa porco la testa eh si hai fatto si ma ci sarà una volta che riusciamo a vincere solo Atmosphere abbiamo vinto anche se forse l'abbiamo inavvertitamente baratto però c'è una parte del nostro 2 3 4 5 ma è più per mostrare il gioco perché se no normalmente non lo faremmo non lo faremmo quindi uso questo due dati vai il biocane 3 eh cioè 3 cazzo 3 proprio 1 2 3 tocca a te però stai calmo stai calmo però tu ti sei lasciato solo uno spazio si si tranquillo è molto risicata 1 te lo riprendi e non puoi muoverti quello devi finire il turno sopra quello Cristo quindi magari fai 1 crei questo come quello che è cioè e poi pescati si si sta a posto ok io uso questo tu mi hai occupato la quindi io mi sa che devo tornare indietro 3 meno va 1 2 3 quasi quasi mi vado a appiare il rover però supero porco oddio ma cazzo di però io mi ho fatto giusto giusto 3 quindi non posso fare nient'altro vabbè vai sti cazzo di due cubetti proprio ma che cazzo è me ce l'ho un po' di un po' di ghiaccio qua ah no 4 1 2 3 e rimano in lato 1 2 3 e ripesco mi si sta oh buono andando a impappare il cervello qua siamo sulla ci abbiamo barato due volte no mai praticamente come se non avessimo un barato 4 vabbè si ci va davanti dai 1 2 3 salto e vado qua bene è morto ok che gioco di me facciamo così risolviamo la partita ma anche se riusciamo a soddisfare la è come se l'avessimo persa è comunque persa è giusto per farvi vedere si e ok gg 1 2 3 e 4 ok lui adesso che sta nella base non perde più ossigeno io mi devo districare da questo vabbè i due spazi meandro prenditi pure un'altra risorsa ma ho 3 1 2 riesco qua per l'amore di dio mai un mai il 3 il 3 di cubo cioè proprio mai mai vabbè ne uso un'altra è veramente bello su giù 5 1 2 3 ripesco qua meno male che li ha impestati cazzo poi allora poi faccio 2 vado qua 6 dai prendi un'altra si si lo prendo un'altra vado 1 2 3 pesco quella che c'ho dietro questo diventa vuota poi qua ogni numero che mi esce comunque resta ad andare qua allora a posto allora praticamente cosa succede? io ho queste risorse qui le ho inventate come vedete ho riempito questo questo era per l'ossigeno poi queste sono le mie e queste sono le due molto proprio infingardo molto avido molto masnadiera come situazione comunque scopro le mie questo è rotto merda questo cazzo non ci vedo questa è rotta merda oh cazzo questa è la punizione ora c'è arrivata la punizione divina si allora un punto due punti un cazzo si tre un cazzo abbiamo perso si abbiamo perso perché avremmo comunque perso anche senza barare perché dovresti prenderne se siete in due giocatori almeno cinque container pieni noi sappiamo cosa fare alla prossima partita è bruciare il gioco e cioè no no e cioè io che sono il veterano devo prendere ste cazzo di tasselli e tu devi agevolarmi il percorso tu devi sempre stare avanti io posso mettere il generatore si ma l'ho detto allo sfinimento qualcuno alla fine lo deve prendere il rover perché il rover è vero che non può effetturare le azioni ma è talmente veloce non farmi incazzare perché sennò eh ora sta pur a prendere fuoco no dico è talmente veloce che raggiunge quello che c'ha poco ossigeno magari prima lo preleva e poi glielo porta e quindi tu non avrai mai bisogno di fermarti un turno là perché ci manca un giocatore allora c'è un altro giocatore e sarete voi alla prossima partita a stare insieme a noi no no abbiamo giocato adesso ora chiudi lo puoi mettere questa puntata del chi vuole essere milionario è finita dentro una di queste casette lo puoi lasciare si si no guarda bel gioco però 5 euro mi aspettavo di più veramente bisogna puntualizzare qualcosa sul prezzo e sulla versione di questo gioco però questi sono dettagli che magari se ce lo chiedete voi se siete arrivati fino a fine video ci chiedete al collega diciamole queste cose è cinese è una copia contraffatta e non me ne frega un cazzo no 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 vabbè no se io lo devo fare un po' quali 40 euro questo gioco no ma anche se fosse io per importarlo dal giappone mi costa 70 euro quindi anche no e vabbè comunque signori questo è tutto a voi striscia eh no cazzo ho rovinato il video di tagliarla questa parte sì sì ok basta alla prossima arrivederci questo boccale di biscio allora il tema del gioco qual è? che noi abbiamo porco video ladro schifoso grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.